eccoci qua ragazzi ho finito adesso di fare l'intervista sul radio popolare di milano saluto gli amici di radio popolare milano questo è tutto per voi aglio olio e peperoncino ragazzi qua ci mancava solo una fogliolina di basilico ma non ce l'ho saluto a giuseppe fiore di radio popolare milano paola paola colombo di radio popolare milano questo piatto è tutto per voi mi avete fatto venire la fame con quell'intervista adesso ci mettiamo un po ma cos'è c'è più bello di quest'ora di gustarsi un bel piatto di aglio olio e peperoncino spaghetto vediamo com'è 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 il profumo internazionale ragazzi ragazzi squaglia in bocca non si può togliere la bocca un spicchietto d'aglio un pomodoro tagliato piccolino olio e saleggine d'oliva una roba internazionale tutto per voi questo tutto per voi stasera in fece del guttugno ci ha dato un malvasia frizzante bellissimo semi dolce non è dolce è un semi dolce tutto per voi sentite ragazzi eccolo qua il nostro vino a tavola non si invecchia mai com'è 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 per fare milano tutto un piattino ragazzi internazionale buonanotte grazie 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 grazie